Una donazione, due buone azioni. È questa la sintesi della iniziativa Adotta un Pino, che l'Agenzia di Comunicazione Mood, organizzatrice della serie di eventi che animano le festività in piazza a Piacenza, ha pensato per rendere concreto lo spirito di altruismo che anima il Natale. Adotta un Pino vuole essere un'iniziativa in cui tu cittadino puoi comprare un pino a 100 euro. Il pino servirà per creare un'uova area verde del Comune di Piacenza. Il ricavato va all'Associazione Casa di Iris. 50 i pini disponibili attualmente utilizzati per il boschetto incantato di Piazza Cavalli e una parte sono già stati adottati da aziende e privati. Dove sarà possibile quando acquistare questi pini? I pini possono essere già visionabili e acquistabili in Piazza Cavalli, fanno parte dell'allestimento di Natale, poi bisogna contattare la Mood Eventi Comunicazione per poter acquistarli. Tutti coloro che acquistano il pino verrà dato un voucher che può essere anche un modo per regalare questo pensiero, questa donazione a un amico, a un familiare. A feste finite gli alberi aumenteranno il polmone verde della città, oppure per chi lo desiderasse c'è anche la possibilità di portarlo a casa e piantarlo nel proprio giardino. Grazie.